Ma da qui a partite di Coppa passano ancora dieci giorni, quindi nella mia testa possono ancora cambiare alcune situazioni. Tutto è ancora aperto. Chiaro che domani finiamo il primo percorso e vogliamo dimostrare, mi auguro di vedere ancora dei passi in avanti, poi però dopo dal 23 penseremo alla partita di Coppa, conoscendo anche le avversarie perché chiaramente gli andremo a visionare il 21, però molto dipenderà dalle nostre condizioni e molto dipenderà dal nostro rendimento. Quindi domani è un'altra tappa di avvicinamento importante per finire questo primo periodo, dove sicuramente la squadra ha lavorato bene e quindi è importante finire bene. Onestamente speravo in un avversario un po' più che ci creasse qualche difficoltà in più, però il fatto che l'abbiamo approcciato con la giusta volontà, con il giusto spirito, con la giusta determinazione è un altro di quei segnali importanti che dobbiamo assolutamente coltivare e portare avanti, quindi ci sono state delle buonissime indicazioni anche della partita di oggi, malgrado l'avversario ci ha creato un ostacolo non tanto difficile. La squadra complessivamente, perché chiaramente incontriamo un avversario di pari livello, comunque che è abbastanza simile penso a livello di condizioni come noi, perché penso che abbia cominciato solamente qualche giorno dopo di noi, e quindi mi aspetto di incontrare difficoltà, ma mi aspetto assolutamente di vedere una squadra che sappia tenere bene il campo, che sappia reggere. È molto importante domani cercare di, al di là di Pinigli e Miccoli, di dare minutaggio ulteriore a tutti i giocatori, perché noi abbiamo fretta, perché fra la settimana giochiamo, però non sarà mai nel Palermo un unico reparto ad essere sotto osservazione, un unico reparto a decidere le sorti delle partite del Palermo.